A un anno di distanza Chiara Gagliazzi è tornata sotto il tendone di X Factor dove tutto era cominciato e ha incontrato di nuovo il suo giudice Morgan, un ritorno che si vinge di soddisfazione ma anche di nostalgia. Non è facile fare i conti con la celebrità per Chiara che ancora non riesce a interiorizzare i numerosi cambiamenti repentini della sua vita. L'altra sera guardavo il fattore, guardavo il mio inquilino, c'è tutto il punto che lei mi ha detto a ridere e lei mi ha detto a ridere e lei mi ha detto ti rendi conto che hai vinco l'anno scorso e lo stavo guardando insieme con te. Dopo un disco, l'esperienza a Sanremo, spot pubblicitaria e intensa attività live, Chiara è pronta a mettersi sempre più in gioco. Il mio sogno è un po' scavalcato, la mia coordinazione. Adesso sta a me vedere e lavorare. Ciao!